Per il momento tutto rimane congelato. Il sindaco Nicola Sanna interviene con una notta sulle dimissioni dell'assessore al bilancio Alessio Marras, che ieri ha lasciato la giunta per motivi personali e di lavoro. Le deleghe, comprese quelle attributi, finanze e programmazione, sono state tutte rimesse nelle mani del primo cittadino, che ha comunque chiesto a Marras di ritirare le dimissioni rinnovandogli la fiducia. Credo che si tratti di un momento passeggero, commenta il primo cittadino. L'assessore Marras è persona seria, competente, con grandissimo senso del dovere e lealtà nei confronti dell'amministrazione comunale. Di fronte alle nuove sfide, alle quali l'assessore Marras sarà chiamato sul fronte della propria attività professionale, ha ritenuto con onestà di rappresentarmi che il periodo prossimo sarà caratterizzato da una gran mole di lavoro aziendale, prosegue Nicola Sanna. Ma adesso occorre anche preparare il bilancio di previsione del comune, un impegno non da poco. Noi tutti, come giunta, siamo disponibili anche ad alleggerire il carico di lavoro. Come ho affidato all'assessore la delega alla programmazione, è certamente possibile attribuirla ad altro componente dell'esecutivo, dice ancora il sindaco. Da alcune settimane, in particolare all'interno della stessa giunta, è però emersa l'urgenza di un cambio di passo nell'azione di governo. La verifica politica non è necessaria, spiega il primo cittadino, che ritiene congelate le dimissioni di Marras. Il passaggio, continua Nicola Sanna, sarà un altro, ovvero la validazione sul bilancio di metà mandato e una condivisione precisa sul programma, fatto di realizzazioni e conclusioni di attività ancora aperte e in corso. Sulle dimissioni dell'assessore Alessio Marras prende posizione anche il capogruppo di Forza Italia, Manuel Alivesi, che esprime preoccupazione per il vuoto lasciato nella guida e gestione delle importanti deleghe. Le imminenti scadenze per la redazione del bilancio e determinazione dei tributi locali necessitano infatti di un'attività continua ed ininterrotta di confronto politico che non può lasciare spazio a vacanze nei ruoli apicali. Per ciò che riguarda l'attività della programmazione, riteniamo invece opportuno che il ruolo di assessore debba essere colmato tempestivamente, in modo da determinare un nuovo e necessario slancio nella fase del reperimento di nuove risorse per la città. Troppi gli accantonamenti che lo Stato italiano trattiene alla Sardegna per abbattere il debito pubblico. Ora la giunta, guidata da Francesco Pigliaru, riaccende l'avvertenza e pretende la restituzione di almeno 120-150 milioni di euro dalle casse statali. La regione sostiene l'assessore al bilancio Raffaele Paci, partecipa come giusto al riequilibrio dei conti, ma paga un prezzo troppo alto che non può permettersi. La Sardegna infatti ha in carico totale i costi della sanità pubblica, un capitolo del bilancio che con oltre 3 miliardi di euro si prende la fetta in assoluto più consistente della spesa regionale. Davanti a questo carico, lo Stato italiano non ha mai contribuito con rimborsi per l'aumento dei livelli di assistenza negli ospedali, aggiornati di anno in anno, o per i farmaci innovativi, cheppure sono stati spesi dalla Sardegna per adeguare la sanità agli standard richiesti. Rimborsi che invece le altre regioni arrivano regolarmente unitamente ai finanziamenti statali per le spese della sanità pubblica. A sollevare il problema è stato nei giorni scorsi il presidente della Commissione Sanità, Franco Sabatini, del PD, che aveva calcolato in un miliardo le somme trattenute dallo Stato e dovute alla Sardegna. Più modesto l'obiettivo che si è posto l'assessorato al bilancio, che andrà a pretendere solo un 12-15% rispetto al calcolo di Sabatini. Siamo pronti se servirà a contrapporci con il governo, ha detto Paci, che a suo dire guarda sempre alla forma e mai alla sostanza, come nei casi di impugnazione davanti alla Corte Costituzionale, prima la finanziaria regionale del 2016 e poi recentemente l'assessamento di bilancio. O ancora, quando lo Stato ha negato alla Regione a Statuto Speciale i finanziamenti per le province. Un'arroganza che finora è stata tollerata dalla Giunta Pigliaru, che ha sempre puntato al dialogo, ma con le continue opposizioni di un esponente di punta, Paolo Maninchedda, Presidente del Partito di Sardi, il quale ora applaude alla linea conflittuale intrapresa contro lo Stato. Oggi anche i colleghi di Giunta più tiepidi, dopo aver sperimentato la slealtà strutturale, endemica, profonda, dolosa e ripetuta del governo italiano, cominciano a parlare della necessità e non più dell'opportunità del conflitto con lo Stato. Una mattinata intensa con temi importanti, quella che si è svolta questa mattina all'Open Day dell'Istituto Tecnico Industriale Giovanni Marian Gioi, grazie alla collaborazione del Rotary Club Sassari Silchi, della Polizia Locale, dell'Automobile Club di Sassari, dei Vigili del Fuoco e del CISOM. Nel piazzale della scuola sono state allestite postazioni speciali per dimostrazioni relative al primo soccorso, all'antincendio, alla sicurezza stradale, con particolare attenzione agli effetti della guida in stato di ebrezza e agli interventi promossi dalla protezione civile. Nell'Aula Magna è stato invece installato un simulatore dell'ACI, le cui immagini sono state trasmesse in un maxischermo in diversi punti della scuola. Ogni associazione ha messo a disposizione mezzi e uomini per far conoscere ai ragazzi le varie tematiche. L'ACI, per esempio, li ha informati sulla possibilità di svolgere corsi di guida in sicurezza per diventare ufficiali di gara. Nell'ultimo rally queste figure sono arrivate dal continente perché in Sardegna non erano disponibili. Grande interesse agli studenti, soprattutto per l'esposizione di auto da corsa negli spazi esterni della scuola e per le attrezzature che i vigi del fuoco sono costretti ad usare in caso di incidenti stradali quando occorre liberare un ferito dalle lamiere di un'auto incidentata. Ed è proprio sui pericoli di una guida poco attenta e magari in stati non ottimali che tutte le organizzazioni e associazioni presenti hanno voluto attirare l'attenzione dei più giovani, spesso i più esposti a pericoli che si possono evitare con maggiori conoscenze e consapevolezza. Il Parco dell'Asinara crea sempre discussioni polemiche nell'ambiente politico locale. L'amministrazione pentastellata di Porto Torres chiede a gran voce la nomina di un presidente del Parco di Porto Torres. L'opposizione afferma invece che i problemi non sono solo le nomine ma progettualità e programmazione che a loro parere mancano all'amministrazione Weller che non avrebbe ancora utilizzato oltre 3 milioni di euro per la rete idrica sull'isola. Sentiamo i consiglieri Francesco Carta e Paola Conticelli ed il presidente 5 Stelle della Commissione Asinara Giuliano Vegliuto. I problemi del Parco dell'Asinara sono solo nella nomina del presidente? Assolutamente no, noi abbiamo dichiarato il gradimento per la nomina di un presidente porto torrese, quello sì però è chiaro che bisogna andare a rivedere insieme con i comuni vicini anche il sistema di gestione per fare in modo che oltre a condividere i benefici si condividano con tutto il territorio anche i costi di gestione. Credo che utilizzare un ordine del giorno e un consiglio comunale per discutere di questo sia stato solo tempo perso, mentre noi ritengo che avremmo dovuto portare in consiglio dei progetti. Se vogliamo vedere l'Asinara in un'ottica di sviluppo economico dobbiamo partire dalle infrastrutture. Non avendo appunto un presidente, a nome di un presidente tutto rimane sulla carta. Ma se questi 3 milioni e 200 mila euro ci sono, perché non fa un progetto questa amministrazione? Ma ci stiamo lavorando, il nostro obiettivo è quello di riuscire ad aprire un dialogo con tutti gli enti preposti sull'Asinara. Il Parco regionale di Portoconte ottiene per il terzo triennio consecutivo la certificazione Siquas della regione Sardegna. Si tratta di un articolato sistema di valutazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi offerti nei centri per l'ambiente e la sostenibilità, di cui si è dotato l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente all'interno dei programmi della rete Infea Sarda. Per il centro di educazione ambientale del Parco di Portoconte, che fin dall'inizio dell'istituzione del bollino di qualità aveva ottenuto la certificazione, quest'anno è arrivata anche l'eccellenza su alcune categorie di valutazione. L'organizzazione spazi e infrastrutture, strumentazioni, personale, risorse finanziarie e poi comunicazione, formazione e partecipazione territoriale e fare sistema con la comunità territoriale. Un bel traguardo che rende merito all'attività educativa svolta ormai da un decennio a casa gioiosa, con le scolaresche e le giovani generazioni in genere. Il centro di educazione ambientale inoltre negli anni ha sempre maggiormente implementato non solo la propria offerta educativa, ma anche e soprattutto le proprie dotazioni infrastrutturali, con nuovi laboratori e aule, arricchendo la propria rete sientiristica, ma soprattutto includendo nella propria offerta l'attiva collaborazione con l'area marina protetta di Capocaccia Isola Piana, che già dallo scorso triennio è parte integrante del centro di educazione ambientale accreditato. C'è sicuramente ancora molto da fare, spiega il direttore del parco di Porto Conte, Mariano Mariani, ma possiamo contare ormai su una base solida di offerta riconosciuta dal punto di vista qualitativo, secondo standard complessi e di livello. Siamo a lavoro ora per migliorarci sempre di più, fissando come obiettivo quello di ospitare almeno una scuola ogni giorno nel periodo scolastico. Le proposte progettuali elaborate dal Cantiere delle Storie per il Centro di Alta Formazione Audiovisiva alla Maddalena sono state presentate a Sassari presso l'Università Centrale in una conferenza stampa. Gli elaborati sono il frutto di un esperimento di coprogettazione che ha coinvolto i laureati di diverse aree disciplinari con il sostegno dell'Ateneo Sassarese e del premio Solinas, il Cinemed e l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Sono stati mostrati la stampa di scenari progettuali frutto dei sei gruppi partecipanti al Cantiere delle Storie, elaborati da studenti di architettura e cinematografia con sceneggiatori, architetti, docenti e finalisti del premio Solinas. Spazio, visione e target, gli argomenti portati al tavolo in una esperienza giudicata esaltante dai partecipanti. È stata posta la pietra per finalmente riuscire a riportare non solo il premio Solinas alla Maddalena ma creare alla Maddalena un polo di attrattiva per tutta la Sardegna e anche a livello internazionale attorno alle storie di qualsiasi genere, attorno ai mestieri del cinema ma non solo. La cosa che mi piace sottolineare è l'importanza dell'Università nel momento in cui organizza i propri studenti, li incita e li stimola a essere protagonisti di progetti. La Maddalena è un posto straordinario per ospitare tutto quello che può essere qualità, internazionalizzazione e capacità di attrarre studenti, non solo i ricercatori di grande valore e oggi qui si sentiva, si percepiva un grande entusiasmo.